Presentata a Roma nella sede Rai di Viale Mazzini la quarantesima edizione di Vivi Città, la manifestazione podistica organizzata dalla WISP Unione Italiana Sport per Tutti, gara che si svolgerà domenica in 38 città italiane. Danila Filippone. Una corsa per tutti, giunta alla quarantesima edizione Vivi Città ideata dall'Unione Italiana Sport per Tutti, è una gara podistica competitiva e ludico-sportiva. 38 le città coinvolte quest'anno in Italia, 30.000 i podisti pronti a contendersi il podio della classifica unica nazionale. Il via come sempre dato da Radio Rai alle 9.30 di domenica 14. Parteciperà anche il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi. Noi chiediamo ogni giorno di lasciare il divano e di fare attività motori, attività sportiva. Vivi Città è una straordinaria occasione, tanti significati, valori, soprattutto la solidarietà, la socialità, la legalità, l'inclusione. Uno sport senza confini che guarda i temi dell'attualità tra aprile e maggio si correrà anche in 20 istituti penitenziari e minorili. Si mischierà il dentro e il fuori perché anche gli istituti penitenziari sono pezzi importanti delle nostre città. Ecco un altro tassello del recente riconoscimento del valore sociale, educativo e di promozione del benessere psicofisico e dell'attività sportiva. A Napoli il percorso è dedicato alla legalità e arriva fino a Caivano, mentre a Roma si corre idealmente per la pace con una staffetta che dalla moschea passa alla sinagoga e arriva fino a Piazza San Pietro.